Sei in cerca di lavoro? Ho un'opportunità interessante per te. Guarda questo video. Sono Claudio Pettiglio, broker di Remax Aurea. Sono qui ad invitarti all'evento digitale gratuito del 26 aprile. Iscriviti per scoprire come far nascere la tua nuova carriera professionale nel settore immobiliare. Iscriviti cliccando sul link in descrizione. Saremo noi a ricontattarti e a inviarti il tuo collegamento Zoom. Manchi solo tu. Ti aspetto. Iscriviti al nostro canale.